Siamo all'ex mulino del Sasso, in mezzo a una coltre bianca incontaminata, c'è solo il nostro passaggio e la neve ci arrivava quasi alla bocca, 1,50. Faesaggio incontaminato, dicevo, tutto immacolato bianco, c'è un leggero nevischio e vi sto per mostrare quella che è una delle dieci cascate più belle d'Italia, la cascata del Metauro o come la chiamiamo qui da noi la cascata del Sasso. Piccolo regalo per tutti gli amanti della natura, per tutti gli ambientalisti che qui si battono contro la realizzazione di una centrale idroelettrica che toglierebbe alla cascata tutto il suo quadro effettivo, lasciando solo la cornice. La centralina toglierebbe tutta l'acqua, lasciando solo gli strati marnosi disposti al reggipoggio.